Il centro-destra Bolzanino deve ricominciare tutto da capo. Quello che doveva essere il candidato di punta alle prossime elezioni comunali per concorrere alla poltrona di primo cittadino ha detto no. Matteo Bonvicini ha infatti sciolto le riserve ed ha deciso di declinare l'invito. Il farmacista Bolzanino questa mattina ha annunciato che non è intenzionato a mettersi a disposizione come candidato sindaco. Le motivazioni che mi hanno spinto a dire di no le renderò notte in una conferenza stampa martedì. Ci tenevo a ringraziare tutti quelli che hanno dimostrato gradimento per questa eventuale iniziativa e comunque rendermi disponibile per interessarmi alla cosa pubblica in un prossimo futuro.